Volontà e impegno non mancano nell'Agnonese, ma i limiti tecnici, tattici e di esperienza sono troppo evidenti per abbandonare l'ultima posizione. Per la salvezza occorre ben altro e traballa la panchina di Stefano Senigallesi. In casa Castelfidardo sono diversi gli acciaccati e gli assenti. Su tutti l'infortunato centrale di difesa Zenetti e lo squalificato Fermani, centrocampista, nell'Olimpia tornano titolari il capitano Litterio in difesa e Carnevale in mediana, in sostituzione di Melvan e Di Lollo. Dirige sotto un cielo uggioso il fischietto Adil Boabid della sezione toscana di Prato. Locali nella classica casacca Granata, completo bianco per la formazione di Riccardo Passeri, in panchina al posto dello squalificato Di Lauro. Castelfidardo prossimo al vantaggio dopo appena 33 secondi sull'asse Braconi, Perpe Pai, Giampaolo. Il legno salva l'estere fatto Landi. Schieramento ultraoffensivo per gli ospiti che non danno respiro ai molisani. Agnonese in difficoltà nel tenere palla e costruire manovre di gioco. Mataloni elude con facilità due avversari sulla pennellata al minuto 21. Non è preciso Braconi sotto misura, secondo pericolo scampato per la impaurita truppa di Senigallesi. Da calcio d'angolo, ingenuità di Marfella che abbraccia troppo calorosamente in area Rossini e concede il rigore. La massima punizione al venticinquesimo è calciata violentemente da Giampaolo. Sfera che si stampa sul palo. La partita un solo padrone, il Castelfidardo, ma a metà tempo è ancora 0 a 0. I locali si tolgono le paure di dosso. Maniscalchi trova il varco giusto e costringe il portiere David alla difficile parata. Cuoio in angolo. I marchigiani tornano a premere direttamente da calcio piazzato. Giampaolo scalda i guantoni di Landi da posizione defilata. Dopo due minuti supplementari rientro negli spogliatoi per riordinare le idee. Molto Castelfidardo e poco agnone al termine del primo tempo. Stesso cliché. Nella seconda parte di gara la catena di sinistra dei Biancoverdi funziona a meraviglia. Mataloni butta palla in area di Porta. Landi è in difficoltà. Prolunga il compagno di reparto per Tosa. Passano gli ospiti al nono. Angolo perfetto di Giampaolo per la testa di Braconi che incorna senza dare scampo alla retroguardia di casa. Castelfidardo 1, Olimpia 0. Il risultato non fa una piega per quanto visto. Anzi, i marchigiani trovano il raddoppio al diciassettesimo. Cusimano da distanza siderale trova Landi impreparato. Rasoiata forte e angolata. Mister Senigallese inserisce Ceci e Lombardi per Vespa e Maniscalchi. Ma la partita è sempre saldamente nelle mani degli ospiti. L'agnonese tutta nel calcio piazzato all'angolino sul sinistro di Carnevale. Il portiere David, infreddolito e inoperoso per tutto l'incontro, non è perfetto nell'intervento. Cragina è in ritardo. Chiavazzo ci riprova dal vertice dell'area di rigore al volo. La sfera fa la barba al palo. Reazione d'orgoglio dei Granata, ma tardiva e poco incisiva. I locali sprofondano. I marchigiani dimostrano invece di essere una bella realtà del raggruppamento.